Anche questo scratch ovviamente assegna punti per i rating internazionali dell'UCI dai quali dipendono poi le quali situazioni nelle varie campionati continentali e mondiali Tutto pronto Stefano Pavigliano ha dato il via, questo è il Giro a vuoto Quanto riguarda questa prova che viene sempre al comando, Polacca della Polonia Prima delle prime posizioni anche lo sale ventuno, Valentina, Basilico, già campionese all'Europa Di questa specialità stiamo di fatto entrando nelle ultime tre giornate Polacca rimane al comando e attenzione con leggero marce di vantaggio si rialza Punto da ripare, a tre giri della conclusione il gruppo ritorna con Pablo Per quanto riguarda la prima metrolotte Basilico nelle prime posizioni Al prossimo passaggio mancheranno due giri al termine E' la prova a controguardo finale, la gara scratch nella categoria donna e under 23 Che precede di fatto la prova maschile in una grande serata qui al veloco componesi Due giri alla conclusione, voi tornate all'arrivo e c'è ancora una all'uno a due giri dall'interno E' quello che viene portato dalla vita, quindi spiegare per la sua numero 15, Maria Sigmund Attenzione eh, perché potrebbe essere l'azione che sorprende il gruppo quando state di iniziare l'ultima tornata Con la marra Sigmunda che guadagna un buon margine di vantaggio Al passato suonerà la campana, ma che non meno di 4 cento dentro del test E' il marra Sigmund retomando E' una caratteristica, la turma, ma la Sigmund in testa Arriva in una vantatura, si rimane la maglia della squadra nazionale dietro a Polonia Sigmund retomando la presenza, non più bisogna la maldittura, la fedenza in testa La Sigmund retomando la panetta, che abbevi la bambina della squadra nazionale Ma la Sigmund, con le posizioni della squadra, la polonia Lielosca 5 del suo Pierosca vorremmo tempo Antonio Sanni da Paragono prenderà le prime tre casificate di questa prova che ha visto casificarsi in terza posizione Eva Agliera Spagna al secondo posto si è diversificata Olga Pierosca Polonia si aggiudica il Gran Premio Metronote la cara stretch per la categoria Donne Under 23 Marla Sigmund Germania la consegna della maglia a Metronote come abbiamo detto le prese hanno gareggiato appunto per il Gran Premio Metronote per la vincitrice c'è anche Fiorenzo che è la mascota della Seggione delle Rose tra l'altro in vendita al Bar del Venomero ed eccoci appunto con la consegna degli apremi e ancora gli applausi per le prime tre casificate Marla Sigmund Olga Pierosca Eva Agliera ce la consegna anche e complimenti ancora complimenti alle prime pre-classificate di questa troppo